Ciao e benvenuto o benvenuta in questo percorso che vuole aiutarti a comprendere meglio il retroscena, il dietro le quinte, il back-end di come funziona un'agenzia di marketing o di comunicazione. Che tu sia all'inizio e non abbia ancora una tua agenzia, oppure che tu sia un manager o un C-level di una realtà strutturata, l'obiettivo dei prossimi video sarà quello di accompagnarti nei quattro ambiti, nei quattro settori, che io insieme al C-level di Mirai Bay abbiamo identificato come le aree più importanti per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione di un'azienda, nello specifico di un'agenzia. Prima di presentarmi ci tengo a dirti che qui non troverai teoria stratta o escamotage nascosti per vendere ghiaccio agli eschimesi. Abbiamo invece scelto di raccontarti la nostra esperienza, fatta di errori e di soluzioni maturate nel tempo. Questo per permetterti di essere un passo avanti ed evitare di perdere tempo. Insomma, abbiamo cercato di raccontare quello che noi stessi avremmo voluto sentirci dire e imparare 5 anni fa, quando abbiamo creato Mirai Bay.